Ragazzi prima di cominciare con questo video mi devo scusare veramente tantissimo perché praticamente Nella parte in cui, nella prima parte dove faccio la intro e faccio vedere anche il primo video Mi sono dimenticato che avevo le impostazioni messe male e quindi praticamente il microfono si sentiva Uno schifo praticamente, ma tranquilli perché ho riparato i miei errori e si sentirà bene per tutto il resto del video, scusate Se volete per la gente qua per voi Luke, oggi slignori andrò a fare una roba che non si è mai vista sul mio canale Ovvero andrò a ricreare i miei vecchi video, proprio quelli del 2020-2021 di Youtube, di TikTok Insomma di tutte quante le piattaforme dove si possono caricare i video Ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina Lasciate anche questo video e possiamo iniziare Cominciamo subito Ed eccoci qua ragazzi, allora andiamo a vedere cosa avevo pubblicato praticamente tre anni fa Ma secondo te, ma come si chiama un aschi brutto? No, questo qua proprio non la so Te lo lascio dire Una schifezza Allora Allora ragazzi, io a questo contenuto ci do un 5 su 10 Per quanto riguarda la qualità video è un 10 su 10 Ma per quanto riguarda il editing video Per quanto riguarda la battuta Ci do un 5 su 10 Perché comunque Non è che Ma che cosa volevo fare prima? Cioè nel senso Raga Di quella puttana Ma che cosa volevo fare ragazzi prima? Cioè ma prima Era un mingarli Non sapevo un cavolo di come si editava Ma andiamo a ricrearlo Per prima cosa bisogna scegliere la location del video Io non so dove farlo quindi boh andiamo sul sicuro Allora Broski Ma io dovevo fare la battuta Ma tu lo sai come si chiama un aschi brutto? Un aschi che fa schifo? No, no Eh allora Tutto lo dico io Che me lo dici? Si chiama la schifezza Ma no E questo ragazzi è stato il risultato finale Vi è piaciuto? Secondo me è molto migliore rispetto all'altro che abbiamo visto prima Secondo me sono migliorato veramente tanto con l'editing Vero? Davvero smetto di fargli il coglio Perfetto ragazzi andiamo a vedere il prossimo video da ricreare Allora questo dovrebbe essere abbastanza facile da ricreare Perché comunque c'è solo un audio sotto Io che ci vado dietro Madonna questo gesto che appena fa Comunque dovrebbe essere molto facile da ricreare Quindi boh Ci provo Andiamo a ricrearlo Ricreare questo video è veramente una barzelletta Infatti posso farlo anche così dai Cioè nel senso Vloggando così Pronti? Ma che cacchio di figura ho appena fatto La figura è me Allora ragazzi Per questo video dai Non è che gli do proprio un nove e mezzo Nove e mezzo Ma gli do dai Un otto Perché comunque Cioè nel senso Mi sono impegnato poco Quindi Gli do un otto E anche per questo lo smetto di fargli coglio E possiamo continuare Con il prossimo video Da ricreare Continuiamo Eccoci qua su tiktok Andiamo a vedere il primo video da ricreare Di tiktok Quante altro? Ma quanto caccio ho il volume? No frate mi sono preso un coccolone Porco giuda Ecco ragazzi Ricreare questo fucking tiktok Tiktok Già da come avete visto prima Potrebbe costarmi enormemente la vita Perché io qua A fianco alla vostra azione Pronti E' più facile Ti spiego C'ho due casse Che non è che siano Troppo grandi Di più Quindi i miei vicini Potrebbero rompersi La scatola E fare tipo così Ed è per questo motivo Che raga Non me ne vogliate Però non è che voglio Finire come avete visto prima Quindi questo Non lo facciamo Ok Facciamo così Questo qua Lo tralasciamo E non lo facciamo Ne facciamo un altro Ancora più bello Andiamo avanti con il prossimo Ragazzi Ho un indovinello per voi Inizia per via E finisce però Secondo voi cos'è? E' il nuovo video Su StumbleGuys Non perdetevelo Mi raccomando Oggi alle 5 Allora io ci scommetto Tutta la vita Che adesso Moltissimi di voi Stanno chiedendo Ma Lu Ma perché devi fare Sto video Scusa Ma non è nulla Mi stai solamente Annunciando Il tuo contenuto Lo so io Tranquilli Lo so io Andiamo a risparlo Ragazzi Quest'oggi Ci sarà una cosa magnifica Inizia per C E finisce per O Sapete cosa significa? Significa Non perdete mi coglioni